E' lei la retina Ilaria Bidini, uno dei due premiati dal Corecom della Toscana per il premio Comunicatore dell'Anno. Ilaria, che per la sua battaglia contro il cyberbullismo è diventata anche Cavaliere della Repubblica, è riuscita attraverso i suoi canali social a ricondurre la disabilità ad un aspetto della persona, tracciando a tinte forti tutte le peculiarità che la contraddistinguono e la completano. Con i suoi post e video, si legge nel comunicato ufficiale, Ilaria si è collocata in prima linea nella battaglia contro le barriere architettoniche, soprattutto anche quelle culturali e mentali che ogni persona disabile incontra nel suo cammino. Con coraggio ha denunciato gli attacchi di cyberbullismo che ha subito senza vittimismi inviando al mittente, riga per riga, parola per parola, le offese ricevute. Assieme a lei verrà premiato il prossimo 7 dicembre a Firenze anche Jacopo Melio di Cerreto Guidi, che ha fondato la Ollus, vorrei prendere il treno. Grazie a tutti.